La LSU ed LPU che lavorano negli enti locali calabresi che da anni aspettano la stabilizzazione. Adesso sono pronti ad incrociare le braccia e annunciano lo sciopero ad oltranza. Sentiamolo Salva Baldino. Domani potrebbero fermarsi i pulmini dei bus perché in tanti comuni gli autisti sono lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità. Paesi e città della Calabria potrebbero ritrovarsi sporchi proprio perché gli LSU e LPU utilizzati dai municipi incroceranno le braccia. La mobilitazione indetta dai sindacati comincerà dalla mattinata, comincerà ma non finirà a protesta ad oltranza. I 5.000 lavoratori calabresi precari da 15 anni rivendicano, spiegano CGL Cisleguille in una nota, una soluzione ad un'avvertenza che ha ormai raggiunto i caratteri di emergenza sociale. La manifestazione si articolerà su base comunale e provinciale con presidio presso i comuni, non crescendo di iniziative anche eclatanti in programma nelle prossime settimane che si placheranno solo quando il Consiglio regionale approverà la variazione di bilancio, i problemi gli stessi da anni senza soluzione, stabilizzazione del bacino per ottenere il riconoscimento previdenziale, garanzia della copertura economica necessaria al pagamento di sussidi e integrazioni. Fino al 31 dicembre 2013, i sindacati invitano i municipi ad esprimere solidarietà ai lavoratori, aderendo alla protesta e comunicando alle prefetture i disagi riscontrati per il blocco dei servizi, resi dai lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità. Il disagio dei lavoratori, degli enti locali con le mani legate dal patto di stabilità, prigionieri di un sistema matrioska contro cui si scenderà in piazza in occasione dello sciopero nazionale proclamato da CCL Cisleguil. Halloween non è una festicciola per bambini.